Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Kalec di Isabel Eklöf, spero pronunciarlo bene, che abbiamo il piacere di accorgere qui. Benvenuta Isabella, regista, sceneggiatrice svedese. Il suo film Kalec è stato selezionato alla 41esima edizione del Festival nel concorso internazionale lungometraggi ed è un'anteprima italiana. Il film è una produzione danese, Manna Film, ed è una coproduzione internazionale di cinque paesi, Norvegia, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Groenlandia, con il sostegno del programma europeo media per lo sviluppo. È stato presentato in prima mondiale alla 71esima edizione del Festival di San Sebastian nei Paesi Baschi a settembre, selezionato in concorso e ha ottenuto il premio speciale della giuria e il premio della giuria per la miglior fotografia. Isabella, intanto se ci può dire un po' di più su questo contesto culturale, che probabilmente qui conosciamo poco, dei rapporti tra danesi e abitanti della Groenlandia. Capisco che è un tema vasto, ma forse qui è poco conosciuto. E anche volevo chiederle qualcosa su cosa significa la parola Kalec. Kalec, Kalec is what you read when you read, but in Greenland it's actually pronounced gellig, not that you have to do it, but I'm going to say that. It's, yeah, the cultural context is quite unique actually and quite interesting because the status of the indigenous population of Greenland is actually comparatively independent. The majority of the people who live in Greenland have Greenlandic descent. The majority of the people living in Greenland also have Danish descent because there's been so much, you know, intermixing going on. So a lot of people like, say, three-thirds Greenlandic, one-fourth, you know, Danish, a little bit of Norwegian. So there's a sense of independence that is different to, say, for example, Canada and North America where the language is completely gone and people have been driven from their original homelands. people here basically still have their own country, although, of course, under an imperialistic overrule. So it's a special situation where people are very economically dependent of Denmark, but at the same time have retained a lot of their own. So it's, for, for being this complex, it's relatively a better one than in some other places. But that being said, of course, there's still enormous hardships because a culture has been basically crushed by another culture and the old way of being is no longer sustainable. So people are trying to find a new way to live in the modern society. And it's not easy because if you come from rural community in Greenland, you have to basically decide if you want to stay in a tiny village your whole life, which is really tiny, like 40 people, or your whole family. And that's an impossible decision for most people to make. and it results in a lot of problems, alcoholism, suicide, violence, sexual violence, etc. In reality, il titolo, noi lo pronunciamo Kalak, ma si pronuncierebbe in un altro modo, che è Kalek. E per quanto riguarda invece il contesto culturale, questa mescolanza di cultura, è effettivamente radicato in quello che è la popolazione autoctona della Groenlandia, che è sostanzialmente una parte fatta di Groenlandesi, però è vero anche che corre nel loro sangue, dopo anni e anni di presenza danese, anche una parte importante di discendenza danese. Grosso modo si può suddividere in tre quarti di sangue groenlandese e in un quarto di sangue danese con anche un po' di norvegese. Il senso dell'indipendenza della Groenlandia è in qualche modo diverso rispetto a quello che può essere percepito in altri paesi che hanno effettivamente subito una dominazione straniera. Si sono ovviamente, la Groenlandia ha ottenuto l'autogoverno e la possibilità di sganciarsi dalla colonizzazione danese, ma è piuttosto complessa la realtà che vivono le popolazioni, anche se, ripeto, è migliore rispetto a quelle di altri paesi in una situazione analoga. E devo dire che hanno comunque tutta una serie di difficoltà esistenziali che hanno a che vedere, proprio con il fatto che sono stati per secoli schiacciati da altri paesi e fanno fatica a trovare un modo di vita sostenibile e una possibilità di navigare nell'età contemporanea, considerando che ci sono tantissime comunità rurali. alcune vivono in villaggi la cui popolazione non supera le 30 persone e la scelta a quel punto è o di restare in quella situazione oppure di recidere i legami con quella realtà, con il proprio retroterma, vuol dire anche recidere i legami con la propria famiglia e questa è una scelta difficilissima che spesso porta a una situazione di autolesionismo, il consumo di alco, di assunzione di droga, di atteggiamenti sessuati. And the word itself has an interesting origin and very much reflects the complexity of the situation, the word originally just means Greenlandic, comes from, I'm not pronouncing it right, but Glesuak, which is the Greenlandic language, I'm really not pronouncing that right. So it just means sort of old school Greenlandic, but at the same time it's become a slur for somebody who is like a bum, basically, who doesn't take care of himself, who drinks and whores and doesn't give a shit and, you know, doesn't have a job, is never on time. So there's a dynamic between the two meanings of this word where you can actually say it with pride and you can also say it to bring someone down. And the main character who is of Danish Greenland and Danish-Norwegian descent comes to Greenland as a nurse and he has a broken background, a broken home. He was sexually abused by his father. So he, in a way, has this feeling of understanding, the trauma, and also really wanting to be a part of this super collectivist culture. So he takes on the word as a sort of a a goal for him is to become a real galak, which of course doesn't, isn't always maybe a good idea. And for what is the meaning of the title of the title of the word, it reflects originally the language groenlandese, simply groenlandese, as component of the community, but via via in the course of the time he has assumed an exception, which means a vagabond, a fannullone, a person who has no care of herself, who has no care of herself, who doesn't have a job, who doesn't look for, who doesn't look for, who doesn't look for time, so he has this connotation peggiorative, per quanto alcuni, tra cui appunto il nostro protagonista, lo dica quasi, si definisce tale quasi come orgoglio. Il protagonista effettivamente Jan è di origine danese, cioè è danese-norvegese e decide di andare a vivere appunto in groenlandia facendo l'infermiere, avendo subito un trauma di abuso da parte del padre nell'infanzia e vuole a tutti i costi entrare a far parte di questa cultura, quindi quasi come orgoglio rivendica la sua volontà di diventare un uomo. Mi pare anche che ci sia un po' un'inversione, cioè è l'uomo bianco che vuole appartenere a una comunità, come se cercasse di essere salvato, introducendosi in una comunità che è un luogo molto più allargato rispetto a una famiglia. In una comunità che è un luogo più ampio di una famiglia. Yes, exactly. I think there's a general, everybody in modern Western society basically agrees that we've made a mistake when we crushed the extended family and moved into tiny little boxes, one in each box. And everybody agrees that that's bad for people. That leads to depression, loneliness, anxiety, suicide, etc., etc. So I think there's a general Western longing to belong to like a tribe in the old sense of the world. And some of that is still present in Greenland. You still feel that a little bit. Partly because it's a tiny place also. So, yeah, so that's what he's longing for. And of course, obviously, he's also romanticizing in Greenland in a way that's problematic, which is a part of the story and why ultimately he fails. Sicuramente è esatto quello che dici e credo che nelle società occidentali siamo tutti d'accordo sul fatto che è stato un errore in qualche modo decidere che il concetto di famiglia estesa, di famiglia allargata andava abolito, andava contrastato e abbiamo creato questi nuclei familiari sempre più piccoli e più ristretti, creando e portando alla depressione molte persone che si sono sentite comunque in solitudine. E il desiderio di noi occidentali per prima è quello di appartenere a una comunità più ampia che potrebbe essere definita a grandi linee come una tribù. Poi è chiaro che per quanto riguarda Jan c'è un concetto quasi romantico di questa appartenenza alla tribù e alla comunità dove lui decide di andare a vivere e questo ovviamente diventa un problema ed è uno snodo cruciale nella storia e poi vedremo che non riuscirà a farlo sostanzialmente. Ci sono domande? Buongiorno Pietro Torchia, Cinedams. Mi chiedevo che nel film è presente dell'ironia nonostante la serietà dei temi trattati. Quindi volevo chiedere se è stata una scelta venuta naturale oppure ci sono state delle difficoltà nell'affrontare, cioè nell'inserire dell'ironia, della comicità nonostante la pesantezza degli argomenti. Grazie. I think for me as a human being and as an artist I think humour is just an essential, is almost inescapable if you want to portray humans as they actually are. As soon as you start to incorporate the body and the material world around us it's just inherently funny because it's so ugly and malfunctioning and non-perfect like we have this constant tension between our ideal world and the real world we live in where we're just constantly decaying and farting and being sexual so I think if you want to portray people like they really are with body and the mind it's just inherently funny and it's important to embrace that I think also of course we can't just I don't feel I can just I can't just you know throw a person into two hours of suffering you know I think it's important to tell a story in a way that you know hopefully a little bit you can relate to I think it's important to me yes I think in quanto as a human being and in quanto artiste non posso prescindere da un concetto e una componente così fondamentale nel nostro essere umani che è quella dell'umorismo non se ne può fare a meno non appena immagini un corpo dalle sembianze umane in un ambiente già di già questa immagine fa sorridere fa ridere perché c'è un tale scarto tra quello che è il mondo ideale che ciascuno di noi può avere in mente il mondo materiale in cui noi viviamo che il concetto stesso di decadimento del corpo di espletazione delle funzioni corporee della pratica sessuale fa sorridere rispetto a un mondo a un mondo ideale cioè lo scarto che c'è tra la mente e il corpo e non avrei mai potuto immaginare in quanto artista di immergere il pubblico in due ore di trattamento di temi tutto sommato pesanti senza avere la lievità data da questa componente essenziale del nostro essere umani C'era un'altra domanda Sì, buongiorno Sara Long Cine Dance La mia era in realtà una curiosità su una delle scene iniziali del film quella della dance tradizionale groenlandese che è il modo anche in cui sia il protagonista ma anche noi come spettatori entriamo all'interno di questa cultura e il rapporto anche con questa maschera noi vediamo come il protagonista cerca un'identità e contemporaneamente questa donna con questa maschera che in realtà dipinta sul suo volto quindi se ci può dire come ha costruito questa scena e gli aspetti diciamo rilevanti grazie perché questo film è molto difficile in un film to get inside people's minds you're only you're watching the faces and you're guessing but you don't exactly really know what's going on so I like to have a little bit of symbolism you can do that with music also but just to understand the emotional pressure the violence of what's going on actually under the surface so I think those two first scenes in Star is just to establish that and then you see what actually then happens but this is like the emotional undercurrent that you should kind of bring with you in the film and it's about it's about sexuality and violence and you know the tension between men and women and between violator and perpetrator so it brings all of that elements into it and on an emotional non-verbal level yeah mi piace cominciare i miei film con una sequenza come in teatro c'era la pantomima e in qualche modo aiuta lo spettatore a entrare nella storia e a comprenderla l'ho fatto anche nel mio primo film in quel caso era una scena di striptease ovviamente è il film che detta che tipo di di scena introduttiva adottare e nel caso di questo film funzionava appunto con queste maschere tradizionali anche perché il richiamo è simbolico all'espressione all'espressività del volto che poi ci aiuterà a comprendere tutto quello che è il percorso emotivo dei personaggi del protagonista tutta la gamma di emozioni che prova ma anche il riflesso della violenza che ha subito e trovo che sia importante effettivamente fissare questo punto all'inizio della storia per aiutare il pubblico a decifrare quello che sono le correnti sotterranee che attraversano questo volto apparentemente così pacifico e naturalmente questo ha molto a che vedere anche con la sexualità con il rapporto vittima carnefice con il rapporto tra uomo e donna era questo l'intento nell'inserire questa sequenza è una sequenza che dà un po' le chiavi tematiche di quello che sarà il film mi pare io volevo chiederle invece una cosa rispetto al libro da cui lei si è ispirata che è un'autobiografia di Kim Line con cui lei ha lavorato anche sulla sceneggiatura volevo capire di che cosa si è appropriata rispetto al libro che cosa ha fatto suo che cosa ha trasformato cosa ha mantenuto come avete lavorato tra libro e film se è possibile spiegarlo sent according to the drugs and his sexaholism or lovaholism or what you want to call it. Most of the scenes I think are created for the film but as a sort of an essence of scenes that are in the book and characters are also used. Most of them contain several characters from the book actually. So it's a sort of easy listening version, easy reader version of the book which is very detailed and very long and not very dramaturgically pleasing because he just really tells his life exactly as it happens. It's not easy to adapt to a film to a film adaptation because inevitably he manages to have a cinquantesimo, addirittura a centesimo of the content of a book. It's about to do a work of condensation of what we have tried to do in some way to do the narrative of the book per cui l'ambientation Anouk ma anche il mostrare quello che è la provincia della Groenlandia e appunto l'arco del protagonista la sua discesa verso la droga la sua dipendenza dal sesso la sua dipendenza dall'alcol. Quindi diciamo che quasi tutte le ambientazioni del romanzo sono nel film e i personaggi spesso un personaggio è il riassunto di più personaggi insomma è una versione in qualche modo una specie di bigino del libro ma abbiamo mantenuto tutte le linee narrative. C'erano altre domande? Sì. Abbiamo un'ultima eh, due, veloci. Valentina Testa, Cinedams. Io volevo chiedere una specifica rispetto a una scena del film quella in cui il protagonista confessa quasi in lacrime a un'altra donna l'abuso che ha subito dal padre e lei risponde in maniera molto fredda quasi che gli dice pensi di essere speciale anche io sono stata violentata mia figlia è nata da uno stupro quindi volevo chiedere se possiamo approfondire un po' il rapporto che il protagonista ha con questa donna e qual è la diversa percezione della violenza. Grazie. Non ho sentito le due domande. il rapporto che il protagonista ha con questa donna e qual è la diversa percezione della violenza. Grazie. Perdonami il rapporto che ha con questa donna qual è la domanda? Qual è il rapporto? Sì, il protagonista che tipo di rapporto ha? Grazie. Well, I mean honestly I don't usually I don't feel like I'm an expert of the film in that sense. I feel whatever is there is there and whatever you add or subtract you know is your prerogative and I think the film is really created in your brain so whatever you think the relationship is then that's what it is you know I mean there are lots of clues to it there's a sexual attraction there's a a dynamic of you know love hate she hates that she's attracted to him and she punishes him for it you know there's the whole colonial story sort of told in a mini version but also you know yeah I think I think that's maybe a reaction you have if you're used to you know living a harsh life and then some westerner comes whining about it you know like yeah just pull yourself together it happens to everyone so what should I do about it especially of course as he says at a point in the relationship where she is struggling to get closeness and he is obviously not going to leave his wife so why should she be his you know confidante it's not it's not a place you want to take when you're being let down by someone I don't I don't I'm an expert of the film and everyone is free to give their own interpretation and their own read because this is your job as a spectator there are a series of indices that tell us what kind of relationship is this between Ian and this woman there is obviously an attraction sessuale that scatena a dinamica of odio and love especially in her because she detesce the fact of feeling attracted from him in some way is this also the story of the colonization of the country the fact that arrives the woman occidentale and in some way piangue on herself when she had to face a life of difficult and just she said said date un contegno rimettiti insieme ai pezzi lo vieni a dire a me ecco non è evidente che lei si sta non dico innamorando ma sente questa attrazione fortissima per quest'uomo e annetta la percezione che lui tanto la moglie non la lascerà mai quindi dove stanno andando ecco c'è una dinamica che è di questo tipo mi appare evidente nel film grazie ci dobbiamo fermare grazie Isabella per questa condivision del suo lavoro grazie Anna grazie grazie grazie